e riviusi a sml ciao ragazzi benvenuti come state? spero tutto bene oggi andremo a mangiare gli smarties siete pronti? 1,2,3 adesso li mettiamo tutti in fila ragazzi ecco, 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 ecco ecco, 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 ecco ecco, ecco ecco, ecco 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 ragazzi uno è caduto bisogna farne a meno di uno perché mi è caduto ragazzi quindi meno uno ragazzi smarties 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 bene ragazzi sono super chiotta e curiosa di mangiarli con voi insieme e e e Grazie. bellissima Sì. Sì, non è vero. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.